L'anno scorso, per l'esame del secondo anno, lo scopo era la conquista dello Charmix. Quest'anno l'obiettivo sarà la trasformazione definitiva, un'evoluzione che vi conferirà poteri superiori, come l'uso della polvere di fate e la miniaturizzazione. Così potrete dirvi vere fate, così supererete l'esame finale. Come? Poteri superiori? Bene, quelle tra voi che riusciranno a raggiungere questo risultato riceveranno un premio. Sì, io adoro i premi! Questo premio compenserà i vostri sforzi, cambiandovi la vita per sempre. Le altre rimarranno comunque delle fate, ma... Non dimentichiamo che una fata di livello superiore ha poteri e responsabilità maggiori. Questo non dovete mai dimenticarlo. Domanda, e che cosa dobbiamo fare per passare l'esame? Oh, non ci sarà da studiare e prepararsi. Piccolo sventato. La prova che vi attende sarà qualcosa di estremamente delicato e importante.